Dovete stare a casa! Non avete capito che la gente muore! Volete far ammalare tutti! Siete degli irresponsabili! Dei cretini! Degli meriti cretini! C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con il lanciafianne. Se tu non esci, non ti preoccupare, non succede nulla. E' un'altra che scrive a me, che cazzo mi scrive a me? Sta' andando a casa che non succede niente. Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada, accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto, guarda che questo non è un film. Tu non sei Will Smith in Io sono leggenda. Quindi basta pagare. Ma ragazzi, io corro da vent'anni. Tra alti e bassi corro da vent'anni. E a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestra, la scuola elementare. Ma dove andate a correre? Oggi, di domenica, tantissime persone in campagna arroste le carni. A fare barbecue. Ma stiamo scherzando. Ma stiamo giocando con la pelle nostra di tutta la cittadinanza. Facevano delle feste in un condominio. Ci sono andato io solo oggi, di domenica. E siamo sindaco, siamo tutti quelli del condominio. Ma il contagio lì è. Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia. Non con i vicini di casa. Che poi voglio vedere questi vicini di casa che confidenza avete. Tutto ora sto un po' avvicinato. c'è Delia. Non potete stare qua. Andiamo. Non vi guardate. Dovete andare a casa. Vietate. Dovete andare a casa. Andiamo. Andiamo. Stiamo con i piedi. Andiamo. 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 Non è previsto il ping pong. Non potete giocare a ping pong. Andiamo. Alla PlayStation. A casa. A casa. Non si può stare in mezzo alla strada. Come ve lo devo spiegare? Non si può stare. Stanno morendo le persone. Come ve lo devo spiegare? Mi farete ammalare pure a me. Mi farete ammalare pure a me. Non si può stare in mezzo alla strada. Non si può stare in mezzo alla strada.